Che rapporto c'è tra celiachia e gli altri disordini del glutine? È un rapporto che ancora non è del tutto chiaro. Certamente noi sappiamo ormai da molti anni che cos'è la celiachia. La celiachia è un'intolleranza persistente al glutine che comporta nei pazienti geneticamente predisposti che quando viene introdotto il glutine nella dieta la mucosa dell'intestino soffre in maniera marcata, si atrofizzano i villi intestinali e questo comporta di conseguenza un cattivo assorbimento delle sostanze nutritive e anche delle vitamine, degli oligoelementi comportando nella maggior parte dei pazienti quindi un quadro abbastanza conclamato di perdita di peso, di deficit nutrizionali eccetera eccetera. Gli altri disordini glutine correlati sono molto più difficili da identificare perché non abbiamo ancora dei test precisi e sensibili e capaci di diagnosi come li abbiamo nella celiachia che sono ad esempio nel caso della celiachia determinati prelievi di sangue, la biopsia duodenale e qualcos'altro ancora, la genetica ad esempio. I disordini invece glutine correlati non sono ancora ben conosciuti perché senz'altro questi sono pazienti che riferiscono a noi la comparsa di determinati sintomi, di determinate carenze, di determinati disturbi quando assumono il glutine. Ma di questi sintomi non abbiamo dei segni obiettivi, non abbiamo i test sierologici tipici della celiachia, non abbiamo le classiche lesioni intestinali, non abbiamo la predisposizione genetica molto spesso. Quindi sono disordini che ancora non riusciamo a inquadrare nella loro completezza.